Buongiorno e benvenuti all'edicola di oggi 26 agosto 2022. Iniziamo la nostra rassegna come sempre con la lettura dei nostri quotidiani partendo dal Corriere della Sera che titola la prima pagina gas le mosse del governo. Il riferimento all'energia con commercio in bilico 120.000 aziende e Calenda propone di fermare la campagna elettorale. Costi mai così alti verso un nuovo decreto, l'Europa fissi un tetto al prezzo. Lupi il pontiere maratoneta, Roberto Gressi scrive Lupi, famiglia, chiesa e ponti con quasi tutti il maratoneta dei moderati. E ancora così le imprese non possono reggere Bonomi Confindustria, Giorgio Meloni conti nessun rischio se vinciamo noi. Allarme zaporisce il riferimento alla guerra di Maio a Kiev da Zelensky scollegata la centrale e Putin a ruola soldati. Leggiamo la centrale nucleare di Zaporizia preoccupa la comunità internazionale. Ieri per la prima volta dall'inizio della guerra i russi hanno sospeso temporaneamente l'erogazione dell'energia da due reattori in funzione. Al buio 4 milioni di case ucraine. Intanto Putin a ruola soldati di Maio a Kiev. Parla il procuratore interviene Cartabia uccisa dopo la denuncia. Non abbiamo perso tempo. Mentre la famiglia di Alessandra uccisa dallo stalker che aveva denunciato parla di mala giustizia. Il procuratore capo di Bologna Giuseppe Amato replica. Abbiamo fatto tutto ciò che si poteva ma intanto la ministra Cartabia chiede chiarimenti. Il maltrattata voleva morire le ho chiesto di ribellarsi. Carabiniera salva una donna dal suicidio. La donna maltrattata aveva deciso di farla finita e aveva scavalcato il davanzale della finestra per gettarsi nel vuoto. Fermati non fare sciocchezze devi ribellarti alla violenza. E con queste parole che Sonia, giovane carabiniera, ha salvato una vita. In pancia personaggi ha percorso 54 mila chilometri e superato la sorella. Mac è il vuoto record attorno al mondo. Un ragazzino con le ali d'oro, Mac, un pilota da record a soli 17 anni, nato in Inghilterra e cresciuto in Belgio. A 15 reggeva già con maestria la cloche di un aereo. Oggi festeggia il primato, il pilota più giovane di sempre, ad avere fatto il giro del mondo. Record che ha strappato alla sorella. Mac ha volato per 54 mila chilometri. Di spalla le verità necessarie. Maurizio Ferrara scrive Governare significa risolvere i problemi collettivi, ma anche organizzare il consenso. Nelle campagne elettorali vi è sempre un'escalation di promesse per attrarre voti. È però cruciale che queste non oltrepassino la soglia della irresponsabilità, soprattutto in termini fiscali. Qualcuno forse ricorderà le rincorse al rialzo tra i partiti della Prima Repubblica, specialmente sul terreno previdenziale e tributario. Il nostro colossale debito pubblico affonda le sue radici proprio in quelle rincorse che fecero lievitare la spesa pubblica e mantenero a lungo molto bassa la pressione fiscale. Rispetto a quella fase storica, le scelte dei partiti incontrano adesso, per fortuna, alcuni vincoli istituzionali interni ed europei. Sono però subentrate nuove dinamiche nella sfera comunicativa che premono di nuovo in direzione contraria. La sostenibilità di una proposta elettorale si può valutare solo all'interno di un programma articolato. Oggi è però diventato molto difficile per i partiti trasmettere agli elettori un'immagine chiara del proprio programma, della propria visione del futuro. La televisione, internet e i social media hanno provocato una esplosione informativa che avvolge i cittadini in una nuvola di notizie interpretazioni e storie. E adesso passiamo alla Repubblica. In primo piano una fotonotizia di Maria Adela Riviera durante un vernissage. Il vero nome è Olga Colobo. Una spia russia nella Nato in Italia. Un agente della intelligence militare si è mossa per dieci anni tra Roma e Napoli, infiltrando i comandi atlantici e americani. Con un'identità falsa e la copertura di una griff di gioielli, entrata in relazione con decine di ufficiali, poi è volata a Mosca. Il commento, l'offensiva dello zar. C'è un momento in cui la storia mondiale cambia e rende strategica l'Italia per i disegni di Putin. E poi il racconto, il fascismo eterno di Putin, parola di eco. Di spalla crisi energetica, caro gas, si studia un decreto aiuti e ora ai mercati Roma fa paura. Nuovo record del gas, 321 euro al megawattora. Il governo studia un nuovo decreto aiuti. Gli Age Fund scommettono contro l'Italia. Il sindaco di Piombino, Meloni, mi ha detto che il rigassificatore non sarà affatto qui. Ne ha parlato con Meloni. Fratelli d'Italia è favorevole ai rigassificatori, ma la scelta di Piombino è sbagliata. Il sindaco di Piombino, Francesco Ferrari e di Fratelli d'Italia. L'analisi sull'aborto Ferragni colma il vuoto dei partiti. Lo dice la Ferragni, vale 20 volte Conte, 10 volte Calenda, 7 volte la Bonino, ma anche almeno 5 volte Letta. Lei sa vendere con eleganza tutto. E dopo la Repubblica passiamo alla stampa in primo piano. Sui mercati torna il rischio Italia. Gas 120 mila imprese in bilico. Il MEF apre all'ipotesi di un decreto per frenare il prezzo che ha superato i 300 euro. Il FIT si scommette al real di basso. Meloni rassicura i fondi. Non sfacceremo il bilancio. L'analisi. Se la Melecoms non è una garanzia, se i mercati finanziari si preparano a speculare al ribasso sul debito italiano, è perché hanno cresciuto agli slogan della propaganda elettorale. Le interviste serra senza draghi, la finanza ci punisce. Scaroni, ma la Russia non chiuderà i rubinetti. Il retroscena. L'Unione Europea convoca i ministri. Fermiamo i prezzi. Quando i ministri europei dell'energia si sono salutati al termine dell'ultima riunione, a luglio, il prezzo del gas era attorno ai 200 euro per 1.000 MWh. E poi gli operai di Mirafiori tradiscono la sinistra. Il PD non ci difende più. Voteremo per Giorgia. Femminicidi. Alessandra era sola. Dove erano i giudici? I diritti. Luca così intelligente da non poter correre. In pancia una fotonotizia. Siamo atlete, non oggetti. Insulti sessisti. a Linda Cerruti per la foto con le medaglie. Parla alla nuotatrice. Denuncio alla polizia. È un problema culturale, ripetiamo, davanti agli episodi di discriminazione e violenza contro le donne che scandiscono le cronache. Ed è vero di cosa è fatto il vento che sostiene l'onda di volgarità aggressiva che ha sommerso Linda Cerruti. All'interno delle pagine il commento di Fabrizia Giuliani. E ancora di spalla il commento. Gli scudi identitari del destra centro. Massimiliano Panarari scrive In questa inopinata e brutta campagna elettorale, resa ancora più palesemente tale dal discorso di commiato da statista di Mario Draghi a Rimini, si è delineato uno schema molto chiaro. Il centro-destra guida le danze e detta l'agenda comunicativa. E il centro-sinistra insegue, faticando molto a imporre i suoi argomenti e finendo per andare a rimorchio. Le destre dilagano così nei circuiti mediatici tra continuismi con un passato che non vuole davvero passare l'opsus freudiani, strumentalizzati inaccettabili ed è naturalmente anche proposte programmatiche. Andiamo adesso ad avvenire il quotidiano di ispirazione cattolica. Gas su allarme Italia. Il prezzo sale oltre i 320 dollari a megavattore. Le imprese non trovano fornitori. E ritorna la speculazione. Il governo pronto ad intervenire con nuovi aiuti per meno. Razionamenti serve il rigastificatore di piombino. Nuovo picco, leggiamo, del prezzo del metano. Commercio stima 120.000 attività a rischio. In settori energie ovi come carta, vetro, ceramica e acciaio per tante imprese e stallo sui nuovi contratti di fornitura per il prossimo anno termico, dal 1 ottobre al 30 settembre. Tra crisi energetica e incognite politiche l'Italia finisce nel mirino. Il Final Times rivela che alcuni grandi fondi speculativi stanno facendo la più grande scommessa del 2008 contro il debito pubblico italiano. Misure entro a metà settembre. Draghi cerca risorse per imprese senza scostamenti. Calenda propone un time out della campagna pioggia di no. Parla Bassi presidente FAFs. Famiglia in Ungheria senza sussidiarietà. Lo Stato può poco. Intervista Giovannini. La crisi una ferita. Salviamo il PNRR. Obiettivi raggiungibili. Il riferimento alla guerra. Mosca adesso spinge sul ricatto nucleare. Giovanni Paolo II parla ancora di pace nel mondo. L'elezione 44 anni fa nove giorni beato. E di spalla cosa fare ora per l'energia? Non serve fantasticare di Prince Cup. Sappiamo ormai tutti come il prezzo di mercato del gas sia quasi duplicato rispetto ai livelli dello scorso anno. Avviando un processo inflattivo importante che sta erodendo il valore di salari e risparmi. Aumentando la quota di famiglie a rischio povertà e mettendo in difficoltà imprese e posti di lavoro. Tutto è accaduto in modo molto rapido fra la fine della fase più acuta della pandemia in Occidente e l'invasione russa dell'Ucraina. In questi giorni di campagna elettorale si torna a parlare da più parti dell'opportunità di mettere un tetto al prezzo del gas. Come se si trattasse di una soluzione magica in grado di risolvere il problema. In economia in realtà non esistono pasti gratis e il Prince Cup qualcuno deve pagarlo. Per capire di cosa si tratta bisogna innanzitutto spiegare in modo più semplice possibile le dinamiche dei prezzi di questo mercato. Le forniture di gas sono vendute alle campagne dai paesi produttori principalmente con contratti di lungo termine a prezzi definiti dalle parti che non vengono resi pubblici. È ragionevole pensare che i prezzi sui su questi contratti perfezionati in tempi meno recenti siano assai più bassi dei prezzi di mercato attuali pur contenendo elementi di condivisione del rischio degli andamenti di prezzo tra le parti. Le dinamiche dei profitti di quest'ultimo anno delle campagne petrolifere indicano che molto probabilmente è così. Data questa situazione per Prince Cup si intende l'obiettivo di alleviare il peso di famiglie e imprese facendo pagare loro un prezzo ragionevole. Il problema è che chi paga la differenza tra il prezzo stop di mercato di oggi e il prezzo amministrato. Una prima possibilità suggerita da molti è che lo paghi la Russia, ovvero costringere la Russia a farsi pagare dalle nostre campagne petrolifere il prezzo amministrato e non quello di mercato. Vista la struttura del mercato già questo passaggio è complicato per vari motivi. Come detto sopra è possibile che già i contratti di lungo periodo tra paese e fornitori e campagne petrolifere siano stati stipulati a prezzi più bassi di quelli di oggi. Se così non fosse comunque si vorrebbe che lo Stato italiano fissasse una regola di prezzo massimo in una contrattazione privata tra una campagna nazionale partecipata e un paese straniero. Tutto questo presuppone una prova di forza tra l'Italia e la Russia. Ma in questo braccio di ferro il braccio più forte è quello di chi ha messo da temere da una rottura del rapporto. E la democratura russa che vende gas e petrolio in tutto il mondo è aperto nuovi canali per diversificare i mercati di sbocco. Sembra avere molto più potere contrattuale di una democrazia come la nostra dove il solo annuncio di chiusura del rubinetto per lavori di manutenzione per qualche giorno provoca impennate dei prezzi del gas mettendo nei guai famiglie e imprese. Si può anche pensare che se il braccio di ferro fosse tra Unione Europea e Russia il potere contrattuale della prima sarebbe maggiore. Ma si sottovalutano le difficoltà per arrivare a una voce univoca tra paesi che hanno vantaggi e svantaggi molto differenti in questa situazione. La Germania in primis resiste a quest'ipotesi perché data la sua forza dipendente dal gas russo sarebbe la prima a subire conseguenze negative in caso di reazione russia e chiusura dei rubinetti. E adesso passiamo alle sole 24 ore il quotidiano politico economico finanziario normativo energia a corsa dei prezzi senza freni. Bonomi il governo deve intervenire. Nuovi aumenti per gas ed elettricità l'esecutivo lavora a misure di aiuto. I leader di Confindustria attento al prezzo del gas e sospendere certificati AIDS. Record sbriciolati per le quotazioni del gas e della luce. Tanto da spingere il presidente di Confindustria Carlo Bonomi a chiedere immediate misure del governo che può e deve intervenire. Governo che ha lavoro anche sulla spinta dei partiti. Ieri le quotazioni delle future del gas, delle forniture del gas hanno raggiunto il nuovo record di 321,4 euro per megawattora portando al rincaro della carenza a 718 euro. Le imprese chiedono un tetto al prezzo del gas che non viene fatto a livello europeo. Deve essere fatto a livello nazionale di sganciare il prezzo dell'energia elettrica da quello del gas e la sospensione temporanea dei certificati AIDS e una quota di rinnovabili a prezzo amministrativo per l'industria manufatturiera. Nel 2022 previste solo 385 mila nascite. È un problema nella demografia. L'Italia verso un record negativo per il futuro PIL a rischio. E dopo il sole 24 ore passiamo alla stampa locale con l'edicola del sud. Fogne in tilt, mare KO, lira di De Caro sull'acquedotto. Il guasto salta la tubatura dell'impianto di Torre del Diavolo. Il sindaco attacca l'acquedotto. Scuola e inflazione. Il rientro in aula costerà il 7% in più. A monopoli caos parcheggi e pass fasulli è polemica. Verso il voto la destra vuole rivisitarlo. La sinistra dice di no. Scoppia la guerra del PNRR. Il progetto costa sud. Primi milioni per i lavori. Il provvedimento matrimoni. Il comune cerca location. E adesso passiamo alla gazzetta del mezzogiorno. In prima pagina la fuga del gas e record 321 euro. Calenda emerge. Fermiamo la campagna elettorale. Cassano-Emiliano dice basta. E ancora. Elezioni e sud. Basta slogan. Serve il lavoro. Fascismo. Dopo le polemiche si badi ai fatti. Quarte dosi a rilento. Il covid rialza la testa. Adesso è Salasso. Scuola, libri e zaini. Il costo è alle stelle. Dopo l'edicola del sud passiamo al messaggero. Alessandra, uccisa perché i testimoni sono in ferie. L'ex già denunciato era libero di agire. Il PM si giustifica. L'inerzia davanti alla richiesta di aiuto. Ecco i precedenti. Lasciate sole dalle istituzioni storie di vittime annunciate. Influencer contro donne contro donne. Il nuovo duello nell'era Meloni. Commercio. Primi stop per il gas. Bollette alle stelle. Le attività cominciano a chiudere. E ora il governo studia altri sostegni. Speculazione record sul debito italiano. Meloni. Non metteremo i conti pubblici a rischio. Dietro il caso Ruberti. Polizze della regione. Gestite in famiglia. E passiamo al mattino. Gas. Decreto salva imprese. Il prezzo a 321 euro. Primi stop tra le aziende. Il governo corre ai ripari. Nuovi aiuti. Calenda. Sospendiamo la campagna elettorale. Ma i partiti dicono no alla tregua. Il prezzo del gas sfonda un nuovo tetto e tocca un nuovo record. 321 euro a megawattora. Un livello altissimo. E preoccupa la stagata. Che attraverso le bollette rischia di imporre lo stop alle aziende. Il governo corre ai ripari. Ci sono i margini per nuovi aiuti. Calenda. Sospendiamo la campagna elettorale. Ma i partiti dicono di no. E ancora Napoli. Nave greca in quarantena. Morta una cadetta. Giallo a bordo del mezzo della marina militare. Aveva 19 anni. Probabile intossicazione alimentare. Dati shock nel mondo. Covid. Tregua finita. L'Organizzazione Mondiale della Sanità. Da gennaio. Un milione di vittime. E adesso passiamo al quotidiano del Sud. Serve ora l'unità nazionale per garantire la sopravvivenza del paese davanti ai costi del rischio politico e del ricatto di Putin sul gas. Leggiamo. 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 Una ora di interventi nel segno dell'unità nazionale perché non ci sono i tempi tecnici per aspettare le elezioni. La nuova maggioranza? L'elezione del Presidente, del Senato e della Camera? Le consultazioni per formare il nuovo governo? Chi ha fatto cadere draghi nascondendosi ed esponendo questo paese a rischio politico di una campagna elettorale anzitempo che paghiamo noi, abbia almeno la dignità di non ostacolare l'azione urgente per fare quello che si deve fare in Italia e in Europa, nei limiti in cui è possibile farlo. Il mondo che esisteva prima della grande crisi del 2008-2009 non esiste più e bisogna che tutti ne prendano atto. La speculazione contro l'Italia, record di scommesse al ribasso, l'annuncio del Financial Times e ancora altro record per il prezzo del gas a rischio 120.000 aziende. In bilico 370.000 posti di lavoro. Lì a Romagno scrive ancora una giornata da record per le quotazioni del gas con il prezzo che ha toccato i 324 euro a megawattora per poi chiudere a 321,4 euro e rialzo del 10%, un nuovo massimo storico. E poi ancora populismi Salvini e Moleoni ammaliati da Orbán, un modello rischioso per l'Italia. Anche gli ultimi sondaggi danno Giorgia in testa. Gare d'appalto su progetti di fattibilità record. Ai primi di agosto l'ultimo rapporto Cresme. E con il quotidiano del Sud chiudiamo la nostra rassegna. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento di giornata. A domani.